San Michele E domenica 1 ottobre a Milano alle ore 16.30 all'NH Hotel ad Assago ci sarà il poveriggio mariano imperdibile con la consacrazione dei fanciulli e la supplica alla Madonna del Rosario di Pompei Alcune anime mi hanno chiesto se possono trovare una soluzione se i giovani non vogliono venire i propri figli e non possono portare i bambini Portate le foto, portate le foto dei vostri giovani e le foto dei vostri bambini se non riuscite a portarli fisicamente a Torino e a Milano Saranno due momenti di grazia con i quali ci prepariamo al raduno di Bologna dal quale ci separano pochi giorni Raggio dunque, venite a Torino, venite soprattutto a Milano dove anche faremo la supplica alla Madonna del Rosario di Pompei Vi aspettiamo, questo tour sta rimotivando il piccolo resto, lo sta nuovamente slanciando in avanti È venuto il momento non di camminare né di correre, è venuto il momento con la Santa Vergine di volare nella verità della fede cattolica Sia lodato Gesù Cristo